Per lo Spallino.com i nostri microfoni battaglia, come ritorni dopo l'infortunio avuto al naso? Ritorno carico, carico con tanta voglia di riprendere come è normale che sia quando uno sta fermo e fuori e soprattutto per me che comunque ho avuto parecchi infortuni nella mia carriera fino ad oggi quindi quando sto fuori è sempre una brutta cosa. Quindi domani saresti già pronto a fare i 90 minuti, sei già carico per affrontare la partita senza nessuna paura nei contrasti aerei? No, quella no, ho avuto un po' i primi giorni, effettivamente all'inizio un po' di paura ma piccato perché magari sei in allenamento magari cerca un attimino di non forzare al massimo, però io comunque nei contrasti sono sempre deciso anche di testa e tutto per cui non penso ad avere grossi problemi. Come hai visto la spalla al tuo rientro, visto che poi tu hai saltato anche le ultime due partite abbiamo letto anche sui giornali che hai visto la spalla in televisione l'ultima partita a Ravenna come l'hai lasciata e come la ritrovi? Beh, come ho detto anche nei giornali, l'ho lasciata l'ultima partita non benissimo secondo me perché comunque abbiamo accusato un po' anche, soprattutto tanta stanchezza che comunque, giustamente, perché si accumula durante tutte queste partite e avendo comunque avuto due partite abbastanza ravvicinate e per cui ci sta poi, Ravenna era un campo pesante, quindi ci sta tutto mentre li ho ritrovati molto bene, tutti quanti, soprattutto mentalmente con gran voglia e gran voglia di rimettersi di nuovo in gioco e di affrontare il giro di ritorno nel migliore dei modi. Domani il Monza come ve lo aspettate, visto che hai cambiato sia il Monza ma anche la spalla con la 0-0 iniziale? Il Monza ci aspettiamo una squadra giovane, come ci ha fatto notare il ministro è giovane però con grande qualità che comunque ripartono molto bene, si difendono in molti ma ripartono molto bene avendo a disposizione in casa loro soprattutto un campo molto grande e poi che comunque, come ci ha fatto notare il mister, da quando ha cambiato allenatore subiscono molti meno gol, a differenza di prima quindi sarà una partita difficile comunque da affrontare. L'ultima domanda, l'assenza di Cipriani può essere un problema? Diciamo, secondo te la Spalpa dovrà giocare più in profondità cercando magari Fofanau, giocando magari con tre dietro tra le tre quartisti o due alle larghe? Quali sono state poi che stanno il mister? Di sicuro noi dovremmo adattarci, perché ci può altre caratteristiche che magari sulle palle alte ovviamente ha più qualità rispetto magari a Fofa però Fofa ha altre tante qualità che sono appunto di attaccare la profondità di saltare l'uomo con facilità quindi dovremmo essere bravi noi ad adattarci bene al gioco nostro. Grazie Battaglia.